Liguria e Liguria sono abituati a vedere sventolare la maniera blu sul lungo mare. E infatti la località italiana che in 31 edizione ha ottenuto più volte questo riconoscimento che premia i comuni liberati più virtuosi. Acqua di bagnazione assolutamente non inquinate e un depuratore che funziona, certificato dall'ARPAL, che scarica acqua depurata ma al più pronto in distanza. Abbiamo incrementato la raccolta differenziata e realizzato diversi nuovi scivoli di accesso alle spiagge superando i bambini rettonici. In effetti negli anni i modelli a comuni di circa 2.800 abitanti è riuscita a migliorarsi anche sotto l'aspetto dei servizi a partire dagli stati viventi materati. Abbiamo la possibilità di averle molto d'acqua e la possibilità quindi di provare a salvatare delle persone che si trovassero in pericolo, che sta a conformazione di scoglie e la costa. Il mare si vive anche con attività sportive ed educative. Quando andiamo alla ricerca di delfini e cetacei imparano comunque a distinguere le varie tipologie, basso a uscire con una piccola barca e proprio scoglieria e con una configurazione particolare. Queste particolarità delle rocce che negli anni si continuano a piegare e vengono a studiarle da tante parti del mondo. Nel centro storico le aree pedonali sono numerose in tutti gli stabilimenti, piccole frazioni e strade principali c'è il desideratore e per gli amanti del trekking ci sono sentieri verdi, stradine che collegano i paesi vicini.